benvenuti in kiwi bello a tutti ragazzi shokari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti oggi ragazzi come vedete primissimo video di lucca comics dove vi racconto un po' il japantown e cosa c'è dentro le cose più belle che ci stanno dentro al japantown innanzitutto iniziamo subitissimo ma ovviamente non prima che già lo sapete vi siete iscriviti al canale attivate la campanella mettete like commentare e fate tutte le cose che dovete fare sempre daie 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 perché come potete vedere già siamo dentro al japantown con questi due bei mazinga giganti e con tutte le altre action figure ragazzi devo dire che le action figure quest'anno fanno da padrona perché come potete vedere ci stanno un botto esagerato di action figure oltre che a fumetti e tutta roba varia e come potete vedere qua ci stanno tutte le action figure i punk o pop ragazzi guardate guardate tanta tanta roba l'unica cosa che come lo sapete già non so se ci siete mai venuti se non ci siete mai venuti per andare al japantown bisogna prendere già lo sapete delle navette bisogna mettere le navette fare un pochettino di fila e poi ci stanno le navette che arrivano io sono stato fortunato in 10 minuti di fila ho preso la navetta e altri spero di sì e qua invece c'è lo stand della japantown e vendono anche i cosplay i costumi dei cosplay vabbè se siamo capiti insomma vendono i cosplay vendono dove li vuoi se tu non c'hai niente e dici che faccio sti giorni tu vai al japantown te compri il cosplay e sei già bello pronto e sistemato per andare a farti la tua fiera insieme alle katane e alle alle gadget e gadget che stai vendendo tutto qua tutto al japantown vendono quindi secondo me la tappa fissa prima di tutto da fare è andare qui al japantown perché c'è veramente tanta tanta roba e come potete vedere ci stanno anche le opere secondo me sono opere d'arte raga perché queste sono fatte proprio a mano sono proprio dei dipinti in questo caso Lupin Mazinga di tutti gli anime artistiche infatti questi sono fatti a mano sono quadri fatti a mano infatti te lo dice pure Lupin che sta qui a presenziare a fare da guardia alle opere d'arte e qua invece raga questa roba fatta pure questa è fatta homemade fatta a mano homemade in ceramica sono molto pucciosi ragazzi sono molto pucciosi io quasi quasi me ne stavo per comprare uno però non ho buchi a casa per poterli mettere però ragazzi voi sicuramente ce li avrete qua invece qualcuno vuole action figure qua c'è sta proprio lo smash lo smash lo smash di Deku di Deku Bakugo guardate ragazzi tanta tantissime action figure come ho detto le action figure li fanno da padrona qua invece sono mini action figure quelle che quelle un po' di tipo degli anni 2000 se non sbaglio tipo 2000 inizio inizio 2000 e qua se tu non hai fatto in tempo a comprarle qua le trovi e dicevo e vendono anche i cosplay i cosplay e questi invece riparlando dei cosplay c'è sta pure la zona di Lady Oscar con il cosplay proprio di Lady Oscar dovete poi fare anche una foto che tra poco ve faccio vede e qui c'è anche il cosplay di Lady Oscar e qui tutta la zona la zona vedete vedete ragazzi Lady Oscar col coso e anche alcune parti con Lupin guardate quanto è figa Lady Oscar e con i quadri di 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 anime generation credo che sia e qua invece è Lupin che anche qua me so fatto una bella foto me so fatto ma faccio vede e quindi oltre a qua guardate ragazzi qua mi sto a fare invece qua mi sto a fare la foto e io sto qua a fare il coglione la foto con Lupin dentro la 500 Abarth e poi qua continuiamo continuiamo il nostro tour in mezzo ai kimono ai kimono tradizionalmente giapponesi che se vuoi un kimono non c'hai un kimono e te lo puoi comprare da qua perché ragazzi sono bellissimi io sinceramente mo' ho comprato un kimono un kimono giapponese ce vuole sempre in casa e ovviamente credo che venga proprio dal Giappone sinceramente non lo so ma credo venga proprio dal Giappone ragazzi guardate quanta gente c'è e quante action figure ci sono di Dragon Ball ragazzi sono io sono rimasto così a sbavare sono rimasto a sbavare ragazzi è veramente veramente impressionante devo dire che questo Japantown quest'anno ma mi ha dato belle chicche belle cose diciamo e guardate ragazzi proprio belli dettagliati mi piace proprio secondo me ci sta oltre poi arriviamo proprio ai big alle action big figure proprio quelle da come potete vedere da 2000 1500 euro 3000 euro che ragazzi effettivamente il prezzo è tanto è tanto alto raga ma ne vale la pena raga ne vale la pena guardate i dettagli raga cioè questa è proprio una cosa esagerata soprattutto questo di Miro Accademia devo dire è veramente esagerato cioè queste sono 3 action figure raga ma le pose sono fantastiche guardate guardate questi con sto spadone esagerato cioè i vale raga i vale li vale li valgono veramente tutti devo dire complimenti complimenti complimentoni oltre poi questo Goku gigante raga è un Goku gigante proprio ad altezza naturale raga una cosa madonna e che è cioè quasi quasi mostavo per portacasa e invece poi non mi hanno dovuto fermare sicurezza perché sennò mo battevo io a casa tiè raga guardate l'altezza raga è fatto proprio in grandezza naturale devo dire proprio alto quasi pur più alto di me devo dire raga è fatto proprio bene mi piace mi piace non ho chiesto quanto costa perché sennò mi andava via un rene però però le action figure raga ci stanno ci stanno raga bellissime io poi grande patito di dragon ball che sono ecco questa cosa è tanta tanta bella roba e continuiamo continuiamo il tour per andare nell'altra sezione del japantown dove ci stanno anche qua altra roba come i cabinati guardate il retro game i retro game i cabinati ragazzi è bellissimo mi sono fatto pure una partita e poi ci stava pure sto robottone che avete visto all'inizio che si faceva fare le foto che chiedeva perché raga se non gli chiedi a foto col robottone ti è raga guardate madonna non so neanche come cazzo ha fatto a portarlo fino a lucca comics però tanta stima per chi sei e qua invece c'è stava anche il cantante voi ragazzi complimenti al cantante che devo dire bravo molto molto bravo ragazzi se voi lo conoscete taggatelo perché io non so chi non so chi sia poi c'è anche questo stand con le magliette molto molto particolari ma c'è questo che mi ripetì qualcosa facciamo tutti al momento amore prestata lenta docile ma aggressiva da nerd custom collection quindi raga quindi se volete qualche maglietta più particolare e venite qua perché ragazzi è veramente veramente belle molto 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 belle diciamo questa è altra roba fatta a mano guardate quanto sono pucciosi questi gattini fatti in ceramica tutti tutti con vari stili vari universi oltre le magliette ragazzi quanto io ho la maglietta dei trunks raga è veramente veramente fantastica molto molto original molto original devo dire fatte bene oltre alle tazze raga ma le tazze di pochita quanto so cucciose cucciose fatti attenzione a bene perché te poi taglia a faccia con le motoseghe però va bene lo stesso ci piace bene ci piace lo stesso ci piacciono anche i led raga la sezione dei led dei neon non i led i neon raga la bottega del neon veramente fantastiche devo dire quel vegeta che sta lì lì dietro raga è stata una lotta perché o stavo quasi pepia devo dire devo essere sincero o stavo pepia però come dicevo anche prima non gioco spazio a casa quindi la prossima volta e quindi ragazzi quando venite qui a lucca comics raga prima tappa è assolutamente il japantown va bene ragazzi noi invece ci vediamo al prossimo video con le interviste che farò sti giorni e quindi ciao cari a si Grazie a tutti